Ciao a tutti, come parlare con scioltezza? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massa Notteo Romasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto in link in descrizione. Allora, parlare con scioltezza è molto importante, è molto più che una questione di immagine perché ci dà delle possibilità molto importanti per riuscire a migliorare ad esempio la nostra autostima migliorare la capacità di gestire le relazioni interpersonali e migliorando la nostra autostima si innesca tutto un circolo virtuoso, un circolo positivo che ci permette di ottenere dei risultati diciamo molto importanti nella nostra vita ci permette di ottenere risultati sia in ambito lavorativo ma sia in ambito affettivo sentimentale insomma ci permette di gestire al meglio le nostre relazioni ma come possiamo parlare con scioltezza? Allora, dobbiamo tenere presente questo che più alto il livello emotivo meno siamo sciolti nel parlare quindi quando siamo in preda di una forte emozione, le emozioni non gestite possono generare dei blocchi possono generare delle situazioni di negatività, anche di negatività molto estrema per il fatto che non sappiamo gestire la nostra, non sapendo gestire l'emotività entriamo in uno stato confusionale, cioè l'emozione da quel punto di vista lì inibisce il linguaggio perché il linguaggio e l'emozione sono strettamente connessi, strettamente collegati è poi una delle strutture, quella linguistica che risente maggiormente di più, maggiormente dell'emozione probabilmente a livello evoluzionistico essendo l'emozione, diciamo, quando l'emozione prevale non bisogna parlare, ma bisogna agire quindi la capacità di gestire le emozioni è fondamentale per parlare con scioltezza quindi una delle cose che possiamo imparare a fare, che dovremmo imparare a fare sicuramente è quella di gestire la nostra emotività gestire l'emotività cosa significa? beh, semplicemente significa che dovremmo imparare, diciamo, ad esempio a meditare la meditazione è fondamentale nella gestione delle emozioni se non sai meditare, non sai, come dire, non sai gestire le tue emozioni quindi ovviamente questo è un percorso lungo che richiede un po' di tempo ma è molto semplice basta ad esempio semplicemente effettuare delle meditazioni sul respiro non bisogna fare meditazioni particolarmente complesse meditazioni particolarmente articolate l'importante è saper gestire proprio la nostra emotività semplicemente ad esempio controllando il nostro respiro dopodiché, una volta che abbiamo fatto questo prima di parlare dobbiamo saperci dare delle emozioni perché darci delle emozioni anche immediate diciamo, durante il dialogo è molto importante perché questo ci permetterà, diciamo così di far sì che la nostra parte emotiva non ci... di autosabotaggio quindi delle piccole emozioni prima di dover parlare sono fondamentali e questo per la gestione delle emozioni poi ovviamente bisogna imparare degli aspetti tecnici intanto è fondamentale leggere e ascoltare molto le persone in generale perché è ovvio che per parlare devi avere dei contenuti se non sai quello che devi dire quello che puoi dire quindi leggere molto è fondamentale ascoltare video, radio parlare soprattutto con le persone e ascoltare le persone questo è un altro punto fondamentale e poi ovviamente serve la tecnica comunicativa che è quella che passa attraverso la gestione della comunicazione non verbale gestire la porsemica, gli spazi comunicativi gestire la cinesica gestire la paralinguistica quindi il tono di voce quello che utilizzo come stressare le parole rallentare il ritmo queste sono tutte abilità molto importanti abilità veramente importanti che ci permettono di interagire positivamente attraverso la comunicazione quindi dare un'enfasi alla comunicazione è molto importante anche sapere gestire i canali comunicativi visivo, uditivo e cinestesico comunque nel canale trovate molte spiegazioni di questo lo stesso concetto per farlo capire a una plettora di persone che probabilmente saranno suddivise in prevalentemente visivi, uditivi e cinestesici devo ripeterlo secondo le tre modalità vi è chiaro quello che ho detto avete afferrato il concetto? vi suona bene questo argomento? ecco, ho utilizzato tre modalità in modo che tutti possano comprendere insomma, ecco questo va fatto è un'abilità ma bisogna esercitarci quindi dobbiamo esercitarci a parlare in chiave visiva in chiave uditiva e in chiave cinestesica è molto importante nella comunicazione perché permette di penetrare un po' con tutte le persone bene per questo video è tutto seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti